Ciao, due parole sulle Champions ieri sera. Il Napoli che ha praticamente battuto il Liverpool con una partita di sacrificio, una partita incredibile. Non so io adesso fino a che punto riesca il Napoli, ma il Napoli è una buona squadra. Se non ha i fortuni e tiene questa concentrazione secondo me può veramente giocarsela con chiunque. Anche se contro la Juve abbiamo visto la Juventus che l'ha un po' stordito alla fine. Perché sì che è mezz'ora di Napoli, ma un'ora di Juve. Ne ha fatti tre. Invece Napoli ha preso un palo e non potrebbero potuti fare due. Anche Caléon potreva farlo, per carità. Niente da dire. Napoli comunque applausi, volevo fare i complimenti. Io sono Juventino, ma faccio i complimenti veramente alla squadra di Ancelotti che ha saputo battere quei bastardi inglesi con una partita convincente e soprattutto di sacrificio. Insigne e Caléon hanno, soprattutto Ancelotti che ha gestito la partita secondo me in maniera giusta, è riuscita a fare, a addormentare, a fare delle iniezioni di anestetico al Liverpool e per poi riuscire alla fine a darci l'ammazzata finale. Bravo Napoli. L'Inter è anche lui bravi perché sono riusciti, dopo essere andati in svantaggio, a replicare a quello che è successo contro un Tottenham che adesso, obiettivamente, il Tottenham rimane un avversario da tenere in considerazione. Sono convinto che il Girone, nonostante bellissimo per l'Inter perché ha fatto così come la Juventus, deve stare attenta anche alla Juventus perché col Manchester non può permettersi il lusso di perdere due partite. Bisogna riuscire a… insomma, la Champions, una cosa certa, il calcio italiano, il calcio italiano, non so se per la venduta di Ronaldo che ha dato una boccata d'aria anche a Ancelotti diciamo, che è arrivato qua, abbia veramente rialzato la testa. Per una volta, perché gli sfottò, nessuno sa cosa, anzi quando esce la Juve, Napoletani, è chiaro che non poi mica pretendo che fate il funerale, cioè, a tutti, tutti, che è un incenso, potete fuochi d'artificio e tutto quanto, per l'amore di Dio, lo sfottò è l'unica cosa che ci rimane per divertirci un po'. Comunque devo applaudire sia il Napoli che l'Inter. Io da Juventino, da Juventino, lo stile, lo stile deve essere così come ci sono tanti tifosi di voi che vedo che, da un'altra inglese, ad esempio, uno sportivo e anche nel Napoli ci sono ragazzi, non ne cito uno in particolare, ma due o tre che sono sportivi. Quando c'è da essere sportivi è dare a Cesare quel che è di Cesare. L'Italia oggi sorride, il Champions 4 su 4, tutte prime leggerone. Che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ciao a tutti! Ciao a tutti!